L'anno definita la crociata di Forza Italia, 32 milioni di euro pronti per le casse della regione Abruzzo che per un cavillo burocratico sono stati bloccati, soldi che si trasformano in tasse e che invece possono ancora essere ottenuti per l'anno 2014. Noi nel corso della precedente legislatura abbiamo già ridotto le tasse degli abruzzesi con una legge ad aprile abbiamo ridotto per i cittadini e per le imprese le tasse di altri 32 milioni di euro. Questa legge è stata impugnata per un dato formale soltanto per la ragione dell'urgenza non sufficientemente motivata dal governo nazionale noi riproponiamo questa legge perché riteniamo che questo alleggerimento da pressione fiscale per 32 milioni di euro debba rimanere ci auguriamo che il centro-sinistra in regione la pensi allo stesso modo e quindi si riconfermi questo alleggerimento per gli abruzzesi da pressione fiscale e che questi soldi non vengano utilizzati per fare altre cose. Dice Forza Italia niente giri di parole, niente retorica quei soldi ottenuti dalla precedente giunta, quella di Chiodi, non rientrano nel patto di stabilità dunque niente a che vedere con i tagli del premier Renzi. È un dato formale, quello che conta è la volontà politica noi sottoponiamo al Consiglio regionale una legge per reiterare questa politica cioè per lasciare nelle tasche degli abruzzesi, delle imprese e dei cittadini 32 milioni di euro e ci aspettiamo che la maggioranza di centro-sinistra sia d'accordo. Quando verrà portata in Consiglio? No, tempi tecnici l'abbiamo già depositata l'importante è che queste risorse non vengono utilizzate per altro né c'entra nulla la legge di stabilità del governo Renzi perché quello ha a che fare con il 2015, noi stiamo parlando del 2014.